Nuove questioni saranno sul tavolo del ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi nelle prossime settimane. Con il recovery plan infatti saranno destinate alla scuola ben 18 miliardi che andranno investiti e riprogrammati insieme alle risorse inserite nella legge di bilancio. Tra le questioni sollevate e riviste è anche quella del dimensionamento scolastico. Nell'attuale emergenza sanitaria si rende ancor più necessario adottare nuove misure di sistema organizzativo e di prevenzione. Spiega ai microfoni di tecnica della scuola il professore Giovanni Tosiani presidente del comitato dirigenti scolastici 2017 che precisa chiediamo che vengano resi definitivi nuovi parametri dimensionali delle istituzioni scolastiche approvati con la legge di bilancio 2021. Questi nuovi parametri approvati dalla legge di bilancio del 2021 vengono resi definitivi e quindi fissando la soglia minima consolidata e prevenzione credibilmente stabile per almeno un quinquennio a un valore compreso tra 500 e 900 riducibile ovviamente da 500 e 900 riducibile a 300 per le scuole poste nelle piccole isole, nelle comunità montane e nelle aree geografiche contraddistinte da specificità tecniche e linguistiche. Le scuole interessate dall'applicazione di questa norma sarebbero circa 150 e quindi queste scuole non andrebbero assegnate in reggenza e la stessa legge di bilancio ha previsto a coma 979 un importo complessivo di 40 milioni, 13 milioni per l'anno 2021, 27 milioni per l'anno 2022. Quindi come potete ben capire la spesa per realizzare questa importante ridefinizione del sistema scolastico non è assolutamente gravosa per lo Stato ma rappresenta al contrario una occasione per rimettere a centro la scuola delle priorità ed è anche un primo passo e su questo ci tengo a sottolinearlo è un primo passo per superare il fenomeno che ormai è divenuto veramente insostenibile, quello delle classi pollaio. Questo emendamento ha dato la possibilità, adesso un emendamento ripeto fatto da Forza Italia fatto in gruppo con altre forze politiche, è stato approvato sei mesi fa che dà la possibilità di regolamentare, fare delle nuove linee guida per quanto riguarda il dimensionamento scolastico soprattutto nelle comunità montane quindi che poi prevede tutta una serie di impieghi quindi il ministero che dovrà stabilire di portare avanti il ragionamento delle assunzioni perché così si riterranno dalle gradatorie e ci saranno sempre più impiegati nel settore pubblico e in un territorio particolare come il nostro ridimensionale vuol dire oltre a dare efficienza alla scuola creare anche tanti posti di lavoro. Grazie a tutti.